Direttore, partiamo dall'ultima operazione di mercato, innanzitutto l'uscita, che è quella di Matteo Di Piazza, la rescissione anzi consensuale del contratto è stata comunque una trattativa molto lunga. Sì, lunga perché eravamo comunque in trattativa già da tanto tempo, l'abbiamo conclusa, siamo tutti contenti, anche il ragazzo doveva andare a maturare un'esperienza diversa. Ce ne saranno anche altre, tipo quella di Messina, tipo anche qualche altro ragazzo che ha bisogno di maturare un'esperienza diversa da quella di Andrea. Naturalmente però non ci si è fermati in questo periodo, già due ufficializzazioni nella giornata di oggi, in particolare il difensore Milillo che è sicuramente un difensore importante per la categoria. Sì, perché ci dà anche forza, centimetri. Abbiamo bisogno di questo perché il calcio oggi è anche tanto fisico, atletico, soprattutto nel nostro girone. Continueremo su questa strada e arriveranno altri calciatori. Nei prossimi dieci giorni, insomma, tra entrate ed uscite, insomma, movimenteremo ancora questa squadra. A che punto è, secondo lei, la costruzione della Rosa? Ma siamo a un 70%, mancano ancora i centrocampisti, anche i difensori, i portieri che abbiamo già, c'è Savini con noi che comunque quasi sicuramente firmerà nei prossimi giorni. E in più ci sarà questo giovane che stiamo aspettando da tanto tempo, questo giovane Agostino. Ma, insomma, aspetterà ancora qualche giorno, anche se siamo d'accordo su tutto. È il Genoa che deve trovare un sostituto. Per Candellori e Dalmazzi, invece, che cosa fa la Fidelis? Attende? E quindi c'è ancora la possibilità di vederli ad Andrea o no? Ma sono due calciatori tesserati col campo basso. Noi ci muoviamo per quelle che sono le nostre idee e il 25 vedremo se ci sarà la possibilità. Insomma, manteremo fede a quello che ci siamo detti, ma il nostro mercato va avanti al di là di questi due ragazzi. Per chiudere, soddisfatto fino a questo momento del lavoro fatto? Sì, soddisfatto perché soprattutto nelle uscite non era facile, vi posso garantire che non è semplice, perché ho sempre un occhio di riguardo per il bilancio, perché la Fidelis, al di là del direttore di quest'anno, ma deve continuare ad avere un futuro, perché i danni sono irreparabili spesso di alcune operazioni. E vediamo, no? Quanto è difficile poi dar via ai calciatori. Quindi mi muovo con oculotezza perché so che al di là di costruire una squadra forte che faccia divertire il nostro pubblico, devo anche avere una certa attenzione al bilancio e garantire un futuro a questa società.